E contemporaneamente dobbiamo avere una particolare attenzione nei confronti delle persone anziane per la loro fragilità e talvolta per la loro solitudine. E da questo punto di vista mi piace utilizzare questa occasione anche per segnalare il fatto che è stato appena firmato dai nostri Ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico un decreto che è importante pur essendo una cosa limitata perché aumenta la fascia di reddito per la quale le persone over 75 sono esentate dal pagamento del canone Rai. Il che vuol dire che i nuclei familiari over 75 molto spesso si tratta di persone sole che saranno esentati dal pagamento del canone Rai che finora erano circa 115.000 diventeranno 350.000 grazie all'aumento della fascia di esenzione. Siccome io nella mia vita mi sono occupato molto di televisione, la mia vita precedente, so quanto la televisione sia soprattutto per queste fasce sociali in difficoltà e per le persone anziane e le persone sole, il Cardinale Martini definiva la televisione un antidoto alla malattia della solitudine, so quanto sia importante anche questa piccola decisione che è stata presa con il decreto del Mise e del Mef.